Se per molti il mese di agosto è sinonimo di riposo e divertimento, per altri invece è esattamente l'opposto. Basti pensare a tutte le persone che lavorano nella filiera del turismo e della ristorazione. Ma non solo, c'è anche un'altra categoria che nei mesi estivi è sottoposta ad un intensificarsi della propria attività. Ed è quella degli uomini delle forze dell'ordine, che in questo periodo garantiscono agli altri una serena vacanza. Già nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato degli arresti eseguiti dai carabinieri del Vibonese per detenzione di sostanze stupefacenti e per possesso di armi clandestine. Ma la loro azione ha spaziato anche in altri campi. Infatti a Mileto hanno sorpreso un motociclista alla guida di una moto che non poteva circolare perché sequestrata dagli stessi militari appena tre giorni prima. In particolare l'uomo era alla guida senza patente e privo di copertura sicurativa. E come se i due sequestri dei giorni precedenti non bastassero, la stessa persona ha continuato ad assumere una condotta illecita sotto il profilo della circolazione della strada. A poche ore di distanza ha deciso di passare dalle due ruote, ormai affidate a un deposito giudiziare, alle quattro ruoti. È stato infatti nuovamente fermato alla guida di una vettura senza averne alcun titolo, vista la patente ritirata. La vettura è stata sottoposta a sequestro e affidata anch'essa al deposito giudiziale. Stessa cosa è successo anche a un altro uomo, sorpreso alla guida di un motoveicolo senza copertura assicurativa e con la patente revocata. Oltre alle sanzioni amministrative, all'uomo sono stati anche contestati illeciti penali. Infatti durante la perquisizione del veicolo è stato trovato un coltello a serramanico di genere vietato. Ad una ragazza invece è stata ritirata la patente perché guidava in stato di obbrezza, stessa cosa per altri dieci automobilisti. Mentre ad un giovane è stato sequestrato un coltello a serramanico del genere vietato. I carabinieri sono intervenuti anche in materia di occupazione abusiva di area demaniale e per diverse lite tra vicini. A Vazzano hanno segnalato all'autorità giudiziaria due persone per lesione personale. Mentre a Rionbiolo sono intervenuti per sedare una lite tra vicini armati rispettivamente di ascia e di un affilatissimo coltello.